Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Oggi una notizia ha sconvolto l'alta padovana, ma non solo, l'intero Veneto è rimasto scosso dalla morte di Egidio Maschio, fondatore della Maschio Gaspardo, azienda leader nel settore delle macchine agricole. L'uomo si è tolto la vita, una tragedia che ha sconvolto quanti lo conoscevano e non si sarebbero mai aspettato una tragedia simile. La ditta, 2.000 dipendenti e un grande patrimonio, a quanto pare era in difficoltà, difficoltà che potrebbero essere all'origine di questo terribile gesto. Tragedia a Cadoneghe nel Padovano. Mercoledì mattina Egidio Maschio, noto imprenditore del territorio, è stato trovato senza vita all'interno della sua azienda di Cadoneghe. Si tratterebbe di un gesto volontario. Egidio si sarebbe sparato al petto nel suo ufficio. A trovarlo i dipendenti quando sono arrivati al lavoro. Un gesto inaspettato che ha sconvolto quanti lo conoscevano. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno ricostruendo la tragedia. Egidio Maschio, assieme al fratello Giorgio, è stato il fondatore della Maschio Gaspardo, azienda leader nel settore delle macchine agricole. Una ditta cresciuta anche in tempi di crisi, apparentemente senza criticità economiche, ma in realtà sembra con grosse difficoltà finanziarie. La ditta fondata dai due fratelli nell'ultimo anno aveva subito un ribaltone finanziario. C'erano tanti debiti, troppi, e il meccanismo che faceva funzionare le cose si era inceppato. Difficoltà a pagare dipendenti e fornitori, problemi con le banche, avevano fatto crescere il timore di non farcela più. Il volto dell'imprenditore era sempre sorridente, anche davanti alle preoccupazioni, forse per non far trasparire la paura che il baratro davanti a sé poteva rappresentare. Forse la volontà di volercela fare a tutti i costi si è scontrata con la realtà che aveva reso consapevole Egidio di non riuscire ad andare avanti. L'azienda, con duemila dipendenti, era in forte stato di crisi. Pare stesse entrando in amministrazione controllata e questo, di fatto, potrebbe averlo messo davanti alla realtà di non potercela fare. Egidio era buono, aiutava tante persone, ma si è evidentemente arreso davanti ai problemi che non poteva più risolvere. Il suo modo di essere oggi porta tantissimi amici e dipendenti a pensare che non si sia ucciso, un gesto che rifiutano e che lascia tutti increduli. Saranno le indagini già cominciate a portare la verità su questa tragedia. Una tragedia dunque che ha sconvolto l'intero territorio veneto. Tanti commenti di cordoglio e vicinanza espressi in queste ore da cittadini e da politici veneti. Una notizia davvero difficile da accettare. Il dipendente di un'azienda privata di vigilanza è stato aggredito a Padova da due nordafricani. L'uomo era in servizio all'interno del supermercato Lidl dell'Arcella. Tra le corsie del discount aveva visto due individui sospetti, li ha seguiti per capire le loro intenzioni. Arrivati alle casse, il vigilante voleva procedere ad un controllo, ma i due se la sono data a gambe levate. Per destabilizzare il lavoratore lo hanno minacciato. Poi durante la fuga si sono appropriati di una catena con la quale lo hanno colpito. L'addetto alla sicurezza è rimasto ferito alla testa ed è stato portato all'ospedale dove ha ricevuto le cure del pronto soccorso. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno raccolto elementi utili a individuare i due soggetti che hanno fatto per il momento perdere le loro tracce. La questione profughi resta al centro della grave difficoltà che sta attraversando il nostro paese. Oggi il sindaco di Padova è intervenuto chiedendo che le cooperative forniscano gli aggiornamenti dei dati ai comuni con i nomi delle presenze dei profughi. Sentiamo. La questione profughi si nasconde dietro al nome solidarietà. In realtà, se non è volontaria ma imposta, altro non è che vessazione e sopruso. Il sindaco di Padova interviene ancora una volta sulla questione profughi e chiede trasparenza. Il primo cittadino afferma chiedo che l'elenco degli ospitati dalle cooperative sia disponibile ai comuni interessati e aggiornato giorno dopo giorno in modo che la polizia locale e le forze dell'ordine possano avere dati certi ed eseguire a propria discrezione i dovuti controlli sulle presenze. Il sindaco di Padova porta l'attenzione sulle cooperative e il loro modo di operare che con la scusa dell'accoglienza stanno facendo business in aumento. Sicuramente c'è chi lavora onestamente ma c'è anche chi approfitta della situazione. Per questo Bitonci domanda chi controlla queste cooperative e spiega Secondo la stampa locale, una di queste ha decuplicato il proprio fatturato che nel giro di tre anni sarebbe passato da 100.000 euro a più di un milione, spiega Bitonci. Chi le controlla? Chi garantisce che i clandestini accolti non siano scappati altrove e qualche cooperativa non continui ad incassare indebitamente i famosi 35 euro al giorno? Come sindaco di Padova chiedo trasparenza. E adesso parliamo di scuola perché Rete Studenti Medi di Padova è intervenuta oggi contro il governo Renzi. È rimasto sordo in tutti questi mesi alle richieste dei ragazzi. Un dialogo che gli studenti avevano cercato ottenendo in realtà false promesse. Dichiara Beatrice di Padova, coordinatore della Rete Studenti Medi. Il testo del maxi emendamento è nel merito una colossale presa in giro della conferma di un famigerato dialogo del governo che si tratta quindi, dice, di una farsa. Infatti nessuna delle modifiche sostanziali necessarie chieste dal mondo della scuola nella sua enorme mobilitazione di queste settimane è stata ascoltata. Dalla provincia di Padova andiamo a Campo San Piero dove i ladri sono entrati in casa del vice sindaco. Furto in casa del vice sindaco di Campo San Piero Attilio Marzaro. Sconosciuti hanno fatto eruzione nella sua casa durante la notte. Sono riusciti ad agire indisturbati. Hanno rubato 300 euro trovati in un portafoglio e lasciato in ingresso. Sul tavolo hanno trovato le chiavi di un Audi Q3 e se ne sono impossessati. I ladri sono entrati dentro casa attraverso la porta del garage. Fortunatamente si sono fermati alla cucina dove hanno trovato i contanti e le chiavi del mezzo. Poi sono fuggiti. Sicuramente a risveglio quando mia moglie si è alzata e uscendo di casa non ha più visto la macchina ci siamo accorti che effettivamente qualcosa è successo. Poi interrogandoci effettivamente la macchina è stata rubata. Posso dire che è stata posta la domanda che in realtà sì, è una macchina e quindi finisce là. Però dentro di noi rimane quel fatto che sì, si sono fermati alla macchina, non hanno fatto una visita più intensa e quindi da quel punto di vista ci siamo un po' più rassernati. Però sta di fatto che hanno la possibilità di entrare veramente nelle case con molta facilità. Quando il vice sindaco ha scoperto che erano stati derubati ha chiamato il 112. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. Sappiamo che i furti purtroppo ci sono perché c'è tanta malavità ancora in circolazione ma sappiamo anche che chi tutela l'ordine molte volte è in difficoltà perché quando li prendono poi vengono anche rilasciati dopo qualche giorno. Quindi molte volte si sacrificano però senza avere poi dei risultati terminali diciamo in cui mettono in sicurezza alla giustizia questi ladri, possiamo così definirli. Ultimamente i ladri se trovano le chiavi delle auto all'ingresso di casa se ne appropriano e nell'ultimo periodo sarebbero numerosi furti dei mezzi dai giardini o garage delle case. E adesso ci spostiamo nella terraferma veneziana. Momenti concitati al parco dell'albanese alla Bissuola a Mestre. La polizia è intervenuta in seguito ad una chiamata anonima per la presenza di due soggetti sospetti. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto i due hanno tentato la fuga ma gli agenti sono riusciti a bloccarli. Uno dei due ha reagito con violenza nei confronti di un agente e sono stati fermati e identificati. Si tratta di un veneziano tossicodipendente e un marocchino di 30 anni che dentro alle scarpe teneva nascoste alcune dosi di droga. Il tossicodipendente è stato rilasciato mentre il nord africano regolare sul territorio è stato denunciato per i reati di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza pubblico ufficiale e ricettazione. L'ultimo capo di imputazione è dovuto al fatto che nel portafogli aveva una tessera con un codice fiscale risultato rubato. Sempre a Mestre è stato arrestato un cittadino magrebino per detenzione di droga ai fini di spaccio. I poliziotti del commissariato locale erano impegnati nell'ambito di attività sul territorio per contrastare lo spaccio di droga. Erano vicino a Via Giustizia quando hanno visto da un'area fitta di vegetazione uscire due ragazze, peraltro a quanto pare giovanissime, forse minorenni. Sono sorti dei sospetti agli agenti che a quel punto hanno avviato una perlustrazione più approfondita che ha portato a individuare un cittadino magrebino dedito all'attività di spaccio. Con sé aveva 22 grammi di stupefacente, è stato arrestato, processato questa mattina, è stato condannato a un anno di reclusione con sospensione della pena. Purtroppo ogni giorno polizia e carabinieri in vari territori del Veneto intervengono per la segnalazione di furti. Nella maggior parte si tratta di cose di poco conto, ma restando impunite queste persone continuano a compiere piccoli furti. Un paio di scarpe, un capo d'abbigliamento, una scatola di biscotti, un profumo. Queste persone hanno fatto dei furti la loro attività. A volte sono talmente tante queste notizie che sembrano di piccolo conto, ma in realtà fanno tanto danno al commercio che non le diamo il servizio. Purtroppo il problema dei furti nei negozi continua ad essere alto. Persone di varia etnia entrano nelle attività commerciali del territorio. Dal supermercato al negozio di abbigliamento, al grande magazzino e con nonchalance si appropriano di beni vari. Molte volte l'ammanco viene scoperto e scatta qualche denuncia, altre riescono a farla franca e ai negozianti non resta alto che tracciare segni negativi sugli incassi. Ormai è quasi la prassi, in particolare nei grandi negozi si fa anche la conta del materiale sparito. Una piaga che non si riesce ad arginare. Molti hanno fatto ricorso a sistemi di vigilanza fatta di persone che controllano, ma anche se il furto viene scoperto, l'autore rimane colpito da una denuncia o al massimo sconta qualche giorno di custodia cautelare. In questo modo la macchina dei furti continua. Chi delinque continua a farlo e purtroppo in quella che per molti è una professione ci sono le new entry. Spesso l'ammanco non viene nemmeno più denunciato. A volte viene presa marce per poche decine di euro e allora diventa più complicato procedere alla denuncia. Il ladro, però se abile, portando via un po' qua e un po' di là, riesce a vivere solo di espedienti e di furti. E adesso torniamo alla città di Padova per parlare di un evento che vedrà la città viva durante la serata di giovedì 25 giugno dalle 18 alle 23 in via San Gregorio Barbarigo. Si terrà la festa dell'estate. Si tratta di una manifestazione che coinvolge tutti i negozi della via che rimarranno aperti per far conoscere i propri prodotti anche con tavoli posti all'esterno. Inoltre saranno presenti 20 bancherelle di abbigliamento e varia oggettistica. Previsto anche l'intrattenimento di un prestigiatore che animerà la serata. La strada verrà chiusa al traffico dall'incrocio con via Carlo Dottore fino a via 20 settembre. Restiamo ancora a Padova perché parliamo di lavori in piazzale stazione al via la realizzazione di una pensilina per gli utenti in attesa o in discesa dal taxi. Ma non solo. A Padova in piazzale stazione lavori in corso per realizzare opere di riordino in favore della nuova viabilità e fornire agli utenti un maggiore comfort. L'assessore all'edilizia pubblica, l'arredo urbano Fabrizio Boron ha comunicato l'avvio del progetto predisposto dai tecnici comunali. Sarà realizzata anche una pensilina per le persone in attesa del taxi. L'opera consiste in una struttura in acciaio corten di vetro di circa 10 metri di lunghezza coperta per garantire ombra e protezione dalle intemperie all'utenza nella zona di salita e discesa dagli automezzi. L'intera opera avrà un costo complessivo di 45.000 euro, di cui 24.000 per la struttura e la somma rimanente per plinti, pavimentazione, spostamento di punti luce, completamento del percorso tattile, segnaletica di orientamento e attraversamenti. Con questo intervento miglioriamo la fruibilità dello spazio attualmente destinato all'attesa dei taxi fornendo maggiore comfort agli utenti. Inoltre, spiega l'assessore Padovano, diamo risposte concrete alle richieste della cooperativa taxi che vuole migliorare qualitativamente il servizio offerto ai cittadini e alla città. E adesso uno sguardo alle previsioni del tempo. Il Veneto almeno fino a domenica sarà interessato dalla parte nord-orientale dell'anticiclone delle Azzorre, temporaneamente con marginali influenze di una depressione sull'oceano atlantico. Sono attese varie giornate in prevalenza soleggiate e a tratti variabili. Temperature in graduale aumento verso i valori caratteristici di fine giugno. È tutto per questa edizione e grazie per essere stati con noi. Buona serata. Grazie a tutti.